Eccoci qua, siamo a Puntala con l'amico Giacomo Gonzi di Prospettica che è venuto a dare un'occhiata con me a due modifiche che abbiamo fatto alle vele abbiamo messo i garrocci tessili perché andiamo all'Argentario a fare l'Argentario Coastal Race per due quest'inverno come campionato invernale, un po' come allenamento per la prossima stagione Stiamo provando col pilota, con il light, montato sui garrocci Grazie a tutti Si è fatto un pochino di prove del light, un pochino di pilota soprattutto, si sta lavorando un po' sulle virate del pilota per vedere come le fa, si ferma un pochino troppo al centro al vento praticamente, passa molto lentamente sulle mure opposte per cui vediamo un attimino se manca qualche calibrazione Per il resto bene, la barca va molto bene anche in due come sapevo e un grande raddrizzamento per cui buone performance Grazie a tutti Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Stiamo provando la 2, ci sono 14-15 nodi di vento, molto bene, si è fatto a bolina, si è provato il light, si è provato il 3, le vere lavorano bene Grazie Grazie Grazie